La siccità e il lavoro nei campi. Lavorare sotto serra con la giusta tecnologia è una soluzione. Durante questa trasmissione voi vedrete delle serre che sono di proprietà della cooperativa Ape di Giulietta che ha sede ad Arcole. Le serre sono multitunnel e sono un ottimo ausilio a quella che è un'agricoltura di campo, di campagna dove all'interno è possibile andare a coltivare anche fuori suolo delle orticole, melanzane, peperoni, pomodori durante tutto il tempo dell'anno. Non inquinano l'ambiente perché le piantine vengono prodotte all'interno di sacchetti di terriccio dove le radici ricevono il nutrimento e questo nutrimento viene dato in microdosi in maniera che le piante possono vivere in un ambiente climatico adatto ma anche ricevere tutte quelle sostanze nutritive e in una maniera talmente armonica che la produzione non può essere altro che delle frutta e della verdura di ottima qualità. Ottima qualità anche da un punto di vista dei residui da fitofarmaci perché in un ambiente protetto le malattie vengono se non annullate ma molto limitate perché la temperatura e l'umidità vengono costantemente monitorate e sapete benissimo che i parassiti fungini hanno bisogno per svilupparsi di umidità tenori di acqua che c'è presente sopra le foglie e di temperatura ma se queste sono escluse o vengono completamente limitate anche le malattie fungine non vengono a creare patologie alle nostre piante e lo stesso per gli insetti le serre sono protette dall'invasione dall'infestazione esterna e pertanto non vanno a rovinare il nostro raccolto un'attività pertanto molto adeguata a quella che è una moderna agricoltura tutto per portare sui piatti del consumatore sempre più delle alimenti che abbiano delle caratteristiche di salubrità di sanità per l'ambiente ma soprattutto che portino all'interno del nostro organismo sali minerali e vitamine senza essere rovinate da quella che è una attività di coltivazione che fa uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari in eccesso tutto questo è l'agricoltura moderna che si attua all'interno delle serre della cooperativa Ape di Giulietta